a tempo di finale la prima della giornata qui adesso terzo quarto posto per il trofeo del centro italia si scontrano pescatori ostia e robur garbatella inizia la finale terzo e quarto posto del trofeo del centro italia abbattuto la robur garbatella che attaccherà da sinistra verso destra in maglia giallofluo invece maglia verde il pescatori ostia in che attaccherà da destra verso sinistra faiola adesso opportunità per il tentativo di burgio buona la parata di filippi ancora va filippi a prender cedrone palla spazzata via dal numero 34 d della roburra intanto poi c'è il gol di deconcilis che esulta sotto le nostre telecamere numero 83 andrà a battere si prova il numero 9 filippi è entrata la palla non è entrata è lì la seconda direttore di gara si esulta però qua ma non è gallo a ripartire lorenti voleva passarlo ad un compagno adesso renzi il tiro alla che va fuori la difesa altra tuscia verso l'area di rigore petrulati poi il tiro da lontano di carucci alla che va fuori palla di era per cedrone il tiro palla che non entra di poco faiola tentativo di faiola non riesce a toccarla un compagno palla che va fuori c'è il duplice fischio finisce qui il primo tempo 1 a 0 per la robur tanto fischia il direttore di gara inizia la seconda frazione tra pescatori ossia e robur garbatella robur in vantaggio ha battuto la prima palla del secondo tempo attaccherà da destra verso sinistra in maglia giallo fluo pescatori invece maglia verde che attaccherà da sinistra verso destra fare in avanti verso marini spazzacaricchio faiola di testa cerca borghitto con il tentativo di tiro ma la parata di flippino secondo tempo quindi 10 alla fine allena avanti faiola faiola tutto caricchio va via la serpentina del 79 servito petrulati tiro di petrulati c'è il gallo 2 a 0 per la robur segna petrulati che poi esulta con compagni e staff faiola sul punto di battuta va il 10 murato dal numero 36 murini di giudice ancora di giudice palla tra le braccia di filippe 9 sul cronometro aramo tre in barriera per l'estremo difensore argagna la mette in mezzo luis enrique aramo gol della 3 a 0 per la roburra cerca di andare faiola tiro che va fuori l'orienti cerca di andarsene via chiude caricchio si lotta verso il corner poi opportunità per raffaiola ci prova anche un altro giocatore che al numero 29 vittori la parata di filippi carramu caricchio buona una sterzata del 79 va caricchio con il destro per la deconcilis arriva la palla affonciani cara a terra non c'è sicuramente nulla cerca di ripartire il borghetto poi spazza favola e c'è il triplice fischio vince la robur garbatella arriva quindi terza la scuola e maglia gialla grazie grazie grazie